Mattia Gennari, una partita senza gol, l'abbiamo già detto, però una partita tosta, nel senso che ci avete provato tutte e due le squadre. Sì, ci abbiamo provato, probabilmente il risultato è più giusto, rammaricati anche per le ultime occasioni, magari con quell'episodio che ci poteva stare e non ci poteva stare, però siamo contenti, soddisfatti, più che contenti della prestazione fatta, poi a volte si vince, a volte no, oggi ci prendiamo un pareggio su un campo difficile, su una diretta concorrente fino all'ultimo per il campionato, quindi va bene così. Abbiamo visto che soprattutto nel primo tempo avete spinto parecchio, mostrando davvero grande personalità e anche un gioco di squadra proprio fluido. Sì, stiamo migliorando, soprattutto dall'inizio della stagione, dove ancora le prime giornate eravamo un po' traballanti e adesso stiamo venendo fuori e penso che si veda. Stessa domanda che ho fatto prima anche al tuo allenatore, a Otavio Palladini, siete tutte lì, comunque è una dimostrazione di un campionato sempre più difficile di un livellato. Sì, è un campionato livellato, lo sapevamo, non c'è probabilmente un ammazzo a campionato, quindi devi cercare di dare continuità ai risultati, oggi l'abbiamo dato su un campo difficile, quando non si può vincere porti a casa un punto e penseremo alla prossima.